Troveremo un diamante a forma di cuore per la ragazza di Ray, prima potremo uscire di qui e rivedere la luce del sole. Sapete qual è la cosa peggiore? Tutto questo abbiato? No, è il fatto che Ray ti prenderà i meriti mentre noi facciamo il lavoro. Ray non ci farebbe mai una cosa simile. Non temere, sto cercando un asso.